dobbiamo spostare il botanino? vai Tere, vai Tere! dobbiamo spostare o no? ah ma per lui guarda dai ci posso dai 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 vai in un momento, zoom posso essere il passeggero? no, è il passeggero Giuseppe Tere, prima devi dargli un'accensione al cucino proprio fa vedere com'è no, il pc è il bus a bus vai sali vai Giuseppe sei un donno no, io la spiego 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 mi sono piaciuto un po' di merda dai ora dai spingete dai non no va ok 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 Allai!